Amici carissimi del Tino Carogatti, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questo video diciamo conclusivo del quinto concorso Suona con il Tino. Allora oggi vediamo i video che mi sono pervenuti e proclamerò il vincito voi. Devo dire che non ne sono arrivati molti e voi un po' per probabilmente il periodo natalizio è che vi è un po' distratto e voi secondo me anche per il fatto che il tema proposto l'oggetto del video sapete che era un tutorial e beh non è cosa sicuramente semplice e sono convinto che chi lo ha fatto o chi magari ci ha tentato ha tentato di farlo e poi non me l'ha spedito non lo so e forse va capito che cosa vuol dire fare un tutorial ne so bene io qualcosa che ne ho fatti tanti e spiegare cercare di essere chiari quando si deve dire qui si fa così qui si in un altro modo dovendo oltre modo suonare e non è cosa non è cosa semplice oltretutto e poi c'è un fatto psicologico sicuramente quando siamo davanti a telecamera e si accende la lucetta rossa come io in questo momento ecco che prende il panico e non riusciamo più a essere noi stessi anche se poi sappiamo che è un video possiamo sempre rifarlo pensiamo invece magari a quegli attori che sono sul palco di un teatro e quando per loro la luce si accende si accende e non si può spegnere la scena non si può rifare bene dopo questa dicressione direi di passare a vedere i cinque video ne sono arrivate solo cinque ma li vediamo nel montaggio che segue e poi ci rivediamo per la proclamazione del vincitore a voi il mix il video collage di tutti i vostri video tutorial buongiorno a tutti ed eccoci qua per la lezione del concorso e io non sono un maestro sono un sono quasi principiante però cerco di studiare e vi propongo questo dunque la canzoncina che avete ascoltato era una una suoneria della di telefoni nokia di una quindicina di anni fa molto carina e l'idea è questa io avevo preparato delle otto basi otto basi su cui suonare questa al piano questa canzoncina ho fatto un minus one cioè ho fatto ho tolto nelle basi i piani e quindi voi la farete in tutte le otto tonalità proposte praticamente è l'idea è quella di indorare la pillola questo relativo a tutto il tema di cui tino ha stressato molto di del trasporto e sapere essere coscienti di ciò che si fa e soprattutto in tutte le tonalità quindi perché è importante perché venne accorgerete facendola perché ad esempio facendola in in do si hanno delle sensazioni delle si prende coscienza delle anche dei rapporti tra tra le varie note tra i vari accordi tenetronità sono 12 se voi fate questo ne avete fatte otto avete fatto più di un list più più di metà blister di pillole insomma io stesso mi sto esercitando in questo e dunque quello che vi consiglio è prima di iniziare una nuova tonalità fare mente locale dove dove sono le note le note in in questo caso dunque sono quattro accordi sono la prima in do il terzo grado tutto senza tensioni solo il terzo grado tutto troppo è il terzo grado tutto il trigliere il ricordo che non è il terzo grado tutto il trigliere il terzo grado tutto tutto il trigliere lo grado della scala e poi si ritorna sul primo. Nella seconda parte della canzoncina, poi sulla quarta noi la faremo minore, che poi è la quinta aumentata della tonalità di impianto. Quindi fatela, vi consiglio vivamente di usare queste basi, io adesso monterò il video in modo che fate una pausa tra una tonalità e l'altra e facciate un ente locale di dove sono le note, le note che dovreste andare a toccar. Quindi diciamo in me... Quello che vi dicevo prima, ad esempio qua in me salta all'occhio che... che noio, la mandata è sul la e poi siamo... Quindi, ad ogni tonalità concentratevi, vedrete che il feel, il feeling è diverso, cambia tutto. Divertitevi a... Induriamo la pillola perché è un... E questo l'indurare la pillola. Divertivi a vedere le varie... Apritevi appunto, è un esercizio che secondo me apre la mente su... sui vari rapporti che intercorrono tra le varie note. E questo è quanto, spero di fare un video valido che vi serva. Ciao a tutti! 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 Amici Deltino e miei qui sui canali di YouTube! Sampai які sui canali di YouTube in myеп Verdome di YouTube Me Sì 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 I don't remember how I feel about you I could never really live without you So come on bed and see Just what you mean to me I need you I need you I need you Amici carissimi del team Carugati ben ritrovati e buon anno a tutti Il tutorial sarà dedicato a un brano degli Pink Floyd Il brano in questione è The Dragon in the Sky Il brano è entrato dall'album The Dark Side of the Moon Io mi occuperò solamente di fare la parte del piano ovviamente Avrò un supporto necessariamente Diciamo per la parte vocale E' presa da una base perché non ho le qualità della cantante dei Pink Floyd Proprio minimamente quindi non volevo disturbarvi anche Distruggere la bellezza del brano dei Pink Floyd Buon ascolto a tutti e spero che abbia fatto qualcosa di utile per tutti quanti Ciao Tino e ciao anche a tutti di nuovo Grazie 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 Video Grazie Ha detto un brano in si minore e l'accompagnamento è in quarti tendenzati no? quindi praticamente due, tre, quattro, ok, e quindi andiamo col nostro Si minore, cominciamo quindi, Fa maggiore, questo Fa maggiore in pratica prende un Si singolo, cioè si dà il Fa maggiore, quindi basso di Fa e triade di Fa, a cui segue il Si nota singola, e poi questo passaggio, a cui quando col pollice tocchiamo il Re, praticamente ribattiamo il Fa, quindi Si bemolle, ecco, giochetto, ecco, facciamo sentire questo Do, Si bemolle, Fa, prima di andare di nuovo in Fa, se sempre Fa maggiore, e col basso però siamo scesi, siamo scesi dal Si bemolle, siamo scesi sul La, quindi abbiamo fatto, ecco qua, questo è l'altro passaggio, prima di scendere sul Sol minore settima, abbiamo, far sentire La, So, Fa, quindi basso di La, sulla sinistra, e accordo di Fa sulla destra, Do settima, Sol minore settima, di nuovo, e qua facciamo, in pratica questo Sol minore settima, questo Do settima, nei due passaggi, il primo è Sol minore settima, quindi, Sol minore settima, si passa sul Do settima, secondo, sempre il primo è il primo è, il secondo, ecco, passaggio, il secondo, ecco, passaggio, sul Fa settima più, che in breve è una triade di La minore, sulla destra è Fa al basso, cosa curiosa, il Fa è, così si può dire, la quinta eccedente dell'accordo, diciamo, della minore, quindi banalmente un accordo di settima più possiamo dire che è formato da un accordo minore e con al basso, diciamo, la sua quinta eccedente, se così si può chiamare, si può definire, quindi in pratica, ecco, questo è il Fa settima più, abbiamo Fa e poi la triade di La minore, la Do mi, e quindi abbiamo questa, diciamo, abbiamo nell'area questo accordo di Fa settima più, però stiamo di fatto prendendo un Fa al basso e, vabbè, ovviamente ci sarebbe un capitolo intero sull'argomento, però evidentemente tutto è legato alle tonalità, su cosa si sta suonando, eccetera, eccetera, quindi l'accordo, in questo caso, vabbè, lo chiamiamo Fa settima più, punto e basta, e non lo chiamiamo, diciamo, La minore e basso Fa, ecco, per dirla alla spicciolata, ok, quindi, riprendiamo da La minore, ok, facciamo sentire queste due, prima, allora, prima di passare su un Si bemolle e poi a seguire immediatamente un Si bemolle settima più, stesso discorso, triade qua di Re minore, basso Si bemolle, quindi, eccolo qua, questo è Si bemolle settima più, però di fatto è Re minore e sempre Si bemolle, che se facciamo, ecco, Re minore e Re fa La, ecco, il famoso Si bemolle, la quinta famosa eccedente, se così la vogliamo definire, ecco, anche qua abbiamo questo giochino stravagante, ok, quindi, allora, vediamo se riesco a riavvolgere il nastro, quindi abbiamo il La minore, e, scusate, il Fa settima più, ok, bene, riprendiamo quindi dal Fa settima più, e andiamo a cadere su un Mi bemolle settima più, anche qui sempre lo stesso discorso, Sol minore, ok, quindi, triade di Sol minore e Mi bemolle al basso, diciamo che in questo brano i Pink Floyd si sono divertiti a dare a fare questo giochetto di prendere la triade minore, mentre col basso si prende, diciamo, la fondamentale dell'accordo di settima più, ok, quindi prendo il Mi bemolle, per fare l'accordo di Mi bemolle settima più, diciamo che mi avvalgo del Sol minore sulla destra, eccolo qua, quindi, nella sequenza, abbiamo detto che, partendo dal Fa settima più, poi abbiamo Si bemolle e Si bemolle settima più, e per andare poi su Mi bemolle settima più, e andare a cadere successivamente sul Do minore settima, infatti abbiamo il Do, abbiamo il Sol, che è la quinta, abbiamo il Mi bemolle, che è la terza minore, e Si bemolle, che è la settima, la settima dominante. Quindi, facciamo questo giretto dal La minore al Do minore settima, quindi, più che La minore, scusate, Fa settima più, Eravamo arrivati al... Eravamo arrivati al... La minore al Do minore settima, quindi... Oh, qua cambia, allora, perché l'arpeggio, scusate, l'accordo, la triade, di solito, l'accordo lo prende in questo, in questo modo, Quindi, queste due, la terza e la settima, e Do al basso... Prima del cambio, però, fa... Prende quinta e terza minore, E successivamente la settima, quindi... L'effetto che sentiremo è... Eccolo qua... Per andare a cadere, poi, su un Fa nona. Ok? Fa nona, che quando siamo su questo Fa nona... Fa... Fa la Do... Quindi abbiamo il nostro Fa... E questa praticamente è il Sol e la nona... Ok? Quindi... Questo è l'accompagnamento portato con la destra... Quindi, vedete? Uno... Due... Tre... Col basso facciamo Fa... Sol La... Quindi... Ok? Facciamo sentire questo... Quindi... Ok? E qua facciamo il... Si bemolle settima più... Classico... Si bemolle al basso... E qui le prendiamo tutte... Non prendiamo la classica... Solo la triomla... Di re minore... Ma ci prendiamo anche il... Anche il si bemolle... Anche la fondamentale... Quindi... Eh... Avevamo detto... Fa nona... Ok? Fate sentire queste due note... Sol Settima più... E a chiudere sul si bemolle maggiore... Dove parte l'arpeggio che darà vita alla... Alla seconda parte... E in pratica... Dove si sviluppa l'improvvisazione vocale... E quindi... Si bemolle... Ho sbagliato il tempo... Si bemolle... Ok? E... L'arpeggio... Non è... Non è una scala... In pratica... È l'arpeggio del si bemolle... Quindi... Come ci troviamo... Come... Tagliamo il si bemolle... Quindi abbiamo detto... Allora... Ok? Ok? Quindi... E... Tutto l'arpeggio del si bemolle... Una volta che abbiamo messo il si bemolle... Allora... Qua conviene cambiare... Sempre si bemolle... Ok... E qua... Siamo caduti... Per preparare... Già... Il prossimo accordo... Che è in pratica... Il famoso... Sol 1907... Però... Questa volta... Non preso più in questa posizione... Quello che avevo visto all'inizio... Ma... Il fa... Spostato... Sulla ottava... Sulla ottava... Bassa... Questo è il do centrale... Di riferimento... Allora... Quindi... Praticamente... Ci troviamo in questa situazione... E... Facciamo l'arpeggio del si bemolle... Eccolo qua... Ok... Questo passaggio... In pratica... Sarebbe il famoso... Sol 1907... E... Do settima... Dalla prima... Si traduce... In... Sol 1907... E... Do settima nona... Perché... Andiamo a prendere anche il re... A differenza... Dalla prima volta... Prendevamo solo questo... Adesso... Aggiungiamo anche il re... E quindi... Diventa un... Praticamente... Un do settima nona... Perché il re... Appunto... E' la nona... Infatti... Abbiamo il sol... Abbiamo il do... Abbiamo il mi... Si bemolle... Dalla settima... E quindi... Avremo anche il re... Che è la nona... Allora... E... Questa è l'unica... L'unica volta... Che quando si fa... Sol minore settima... Do settima... Viene eseguito... In questo modo... Perché solitamente... E... E... La posizione canonica... Di questo brano... E' sempre questa... Questa per il sol minore settima... E questa... Per il do settima... Ok... Invece... Questa volta... Avremo... Questa... Per il sol minore settima... E... E... E qua... Prenderemo il do settima nona... Ma ripeto... Viene fatta solo una volta... Dopodiché... Parte una sequenza... Di... Classica... Che facciamo all'inizio... Di sol minore settima... E... Do settima... Che durerà per otto volte... Con... Con questa... Con questa cadenza... Abbiamo... Uno... Due... Tre... Quattro... Uno... Due... Tre... Quattro... Questa è la uno... Poi... Questa è la seconda... Due... Tre... Quattro... Due... Sempre la seconda... Quindi... In pratica... Abbiamo... Quattro... Diciamo... I quattro quarti del sol settima... I quattro quarti... Eh... Sì... I quattro... Appunto... Quattro quarti... Del do settima... Che sostanzialmente... Devono essere ripetuti... Per otto volte... Eh... Ok... Vediamo un po'... Eh... E... Un'altra cosa... Quando prendiamo il... 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 Sol minore settima... In questa posizione... Eh... Prima di arrivare al... Do settima nona... C'è un passaggio... Di basso... Che... Dal sol settima... Ok... Eh... Scusate... Dal sol minore settima... Abbiamo... Due... Tre... Quattro... Uno... Ecco... Quindi... Banalmente... Abbiamo... Un... Due... Tre... Quattro... E... Do... Ok... Quindi... Un... Due... Tre... Quattro... Ecco... Adesso dipende... Diciamo... Die... Diciamo... Un... 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 Ma... No? No... Un... Adesso... Diciamo che... l'ottava volta, ci troveremo sul do settima, otto, facciamo finta che siamo arrivati all'ottava, facciamo il sol minore settima, però al basso prendiamo il re, per due quarti, per spostarci poi su un si bemole minore sesta, sempre per due quarti, per spostarci ancora su un fa diesi settima e concludere in si minore, così, ok, dove c'è l'arpeggio, e in pratica tutto riprende dal si minore di nuovo. Grazie a tutti. Lo ripeto è proprio identico fino alla famosa sequenza del sol minore settima e del do settima, questa, per intenderci, che, diciamo, è quella che supporta l'improvvisazione vocale e va sfumando su questi due accordi, sostanzialmente il tutorial è tutto qui. Spero di aver fatto qualcosa, diciamo, di utile, probabilmente banale, perché vedo alcuni degli amici che sulla bacheca del Tino a volte partecipano a concorsini, eccetera, che sono veramente bravi, quindi, diciamo, questo è proprio per chi, come me, annaspa, cerca e vuole strimpellare il pianoforte. Beh, di nuovo auguri di buon anno a tutti quanti, spero di aver fatto, ripeto, qualcosa di utile che possa servire un po' a tutti quanti, specialmente a quelli che, come me, non sanno, insomma, non sono dei pianisti belli e pro, non si possono, diciamo, chiamare tali. Ok, un ciao a tutti e una risentirci, grazie Tino per queste piccole pillole che ci dai per partecipare e condividere con te questo mondo simpatico. Ok, ciao a tutti e Pim Floyd, The Grey Gink in the Sky, dall'album Dark Side of the Moon. Ciao. Amici carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di YouTube per una nuova puntata di Tino Garugati Air Friends. Parleremo in particolare di due semplicissime tecniche per suonare facilmente. Tutti gli accordi di undicesima e tredicesima in tutte le tonalità. Questa è una lezione estremamente breve, non più di un paio di minuti. Ad esempio, se vogliamo prendere un Sol undicesima, basta suonare Sol al basso, e nella mano destra la triade maggiore un tono sotto. In questo caso la triade di Fa maggiore. otteniamo così facilmente un Sol undicesima. Passiamo a un Do undicesima. Do al basso. E Si bemolle sulla mano destra. Vogliamo un La bemolle undicesima. La bemolle al basso. Sol bemolle maggiore. E questo per la undicesima. E' tutto. Leggermente più complessa la situazione per quanto concerne la tredicesima. L'accordo di tredicesima. E come il Dino ha ripetuto tante volte, è bello prenderlo in maniera quartale. In definitiva, sentiamo un Do tredicesima. E' semplice. Prendiamo la settima. Si bemolle. La terza di Do. E poi ecco il trucchetto, che aiuta moltissimo. Basta suonare la nota un semitono prima della settima. Allora, la settima di Do è Si bemolle. Quindi suoniamo un La a ottava. Quindi Si bemolle. Mi. La. Abbiamo preso il Si bemolle. Quindi, mezzo dono prima, il La. In questo caso, abbiamo la possibilità di calcolare, diciamo, suonare facilmente tutte le tredicesime che vogliamo. Fa tredicesima. Bene. Allora, Fa al basso. Mi bemolle. La seconda. La seconda nota sarebbe la terza. E la nota prima della settima, Re. Ok. Proviamo un altro accordo. La bemolle tredicesima. La settima di La bemolle. Sol bemolle. La seconda nota. Do. E la nota prima. E Fa naturale. Difficile? No. Grazie Altino che ce l'ha spiegato la prima volta bene e a questo piccolo trucchetto. Buona serata. Buon Natale Altino e a tutti coloro che vedranno questo tutorial e anche buone feste in generale. Tutorial di Scarborough Fair Una canzone popolare inglese tradotta all'italiano da Braguardi Questa versione è in re minore ed è presente nei metodi Busting o metodi in tre volumi Da suonare molto lentamente e adesso vediamo un po' lo spartito Effetto onda Bisogna stare attenti praticamente in questo punto dove c'è il ritmo puntato e poi è un brano molto semplice Bisognerebbe rispettare le dinamiche il più possibile e adesso vediamo come si esegue facciamo la prima parte e poi la seconda parte La prima parte inizia con un accordo di Re della mano sinistra fino appunto ad arrivare a un accordo di Do alla battuta 1, 2, 3, 4, 5 questa è la prima parte prosegno ancora questo vaso continuo fino a battuta 7 dove c'è un merci naturale dipendiamo dall'inizio e aggiungiamo questa battuta dopo come si esegue riprendiamo di nuovo dall'inizio quindi c'è da fare attenzione molto il salto qui dal Re ci si sposta al La perché bisogna fare un salto perché sennò non abbiamo più di tal disponibili per fare quindi per continuare il brano quindi dall'inizio fino a dove c'è scritto meglio forte dove l'ho caricato del supporto poi non si vede e andiamo sempre molto lentamente no 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 ecco riprendiamo da questo punto qua perché qui ci sarà un altro salto sul La bene amici carissimi avete visto eh c'è chi si è cimentato con brani dei Beatles dei Pink Floyd chi invece ha scelto eh la strada diversa di spiegare qualcosa di armonia bene direi che bravi eh innanzi tutto bravi a tutti perché comunque eh l'impegno da parte vostra c'è stato e qualche video è stato anche abbastanza lungo eh io mi sono anche preso come dire il l'onere e ho dovuto ho dovuto anche un po' accorciarli perché sennò veramente il tutto durava durava troppo però bravi perché insomma lo ripeto non è facile fare cose di questo genere e quindi gli argomenti sono stati vari e varie anche eh le logiche vostre personali interpretazioni ho pensato di eh premiare eh Marco Falina Marco eh si è stato veramente divertente eh io guardo sempre questo aspetto perché poi anche i miei video lo sapete no sono impontati a una grande a me lo spero sempre in serietà nel proporre gli argomenti ma cerco sempre di farlo in maniera così quando posso dico una battuta quando posso cerco di sdramatizzare un po' se la situazione è troppo pesante e tant'è che ho chiamato il mio percorso didattico piano forte leggero e quindi apprezzo questi video sicuramente dove è l'ironia unitamente però alla sapienza eh perché poi vi sarete anche resi conto eh mi rivolgo a voi che l'avete fatto di quanto sia una cosa sapere le cose eh scusate il bisticcio di parole un'altra è quella di saperle trasferire a a dalle altre persone in questo caso a altri amici che guardano il nostro video intendo dire una cosa essere dei bravi pianisti dei bravi musicisti dei bravi strumentisti è un'altra cosa è saper far diventare anche gli altri così come lo siamo noi perché insomma io alla fine poi penso che nessuno di noi è dio nessuno di noi è un genio tale quindi io mi dico sempre sia una cosa la so fare io ma perché un altro non la deve saper fare anche lui è chiaro che è il modo di insegnare eh l'approccio didattico è importante perché spesse volte i concetti sono lì dietro l'angolo e non si comprendano perché chi ce li spiega non è dotato di questa capacità che poi alla fine guardate bene che è non è molto diverso da una qualsiasi altra arte e quindi caro marco bravo non ho un premio specifico io avevo detto l'altra volta ne avrei premiati tre ma avete partecipato solamente in cinque quindi mi sembra giusto premiare solamente il primo che è appunto marco marco contattami perché non sapevo che cosa mettere in spaglio non lo so nemmeno oggi ma oltretutto tu sei uno che ha preso tante cose da me quindi contattami e troveremo senz'altro qualcosa che possa essere di tuo interesse e sarò lieto di dartelo finisco con fare me lo stavo dimenticando una menzione anche a Fabrizio Bianchi il suo video mi è piaciuto mi è piaciuto l'idea e mi sa che caro Fabrizio te la ruba macchia nel senso che bella l'idea di fare in pratica quello che ho fatto lì anche recentemente quando ho parlato delle varie tonalità e tu l'hai fatto proponendo un brano e proponendone diverse basi in diverse tonalità una cosa intelligente quella che hai fatto e che mi può essere d'ispirazione per fare qualcosa di analogo del resto poi con le basi media è un attimo il trasporto lo si fa veramente in modo rapido e indolore bene amici carissimi è tutto per questo quinto concorso io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ringrazio tutti coloro che stanno guardando questo video che ormai è giunto alla fine vi do l'appuntamento al sesto concorso non so di cosa tratterà ci pensano e per intanto vi giunga caldo perché in questi giorni c'è veramente bisogno di un po di calore perché fa un freddo cane qui a Milano vi giunga caldo l'abbraccio nel vostro Dino Carugate